Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul canale di Elysion, io sono lo sconosciuto e allora vi voglio parlare un po' così apertamente, liberamente, so tenendo la fotocamera in mano, questo video sarà brevissimo, vi devo dire soltanto alcune cose. Intanto vi ringrazio per il raggiungimento dei 250 iscritti, anzi l'abbiamo abbondantemente superati, vi ringrazio tantissimo, continuate a supportarci così, cerchiamo di arrivare a 300 e vi ringrazio anche per tutto il supporto che ci date, con commenti, semplici visualizzazioni, mi piace, perché davvero ci fa piacere che i nostri contenuti comunque vi piacciono. Devo dirvi che andrò praticamente in vacanza 5-6 giorni in Val d'Aosta e quindi non ci saranno più video per circa una settimana, magari anche un po' abbondante, non vi preoccupate, poi ritorneremo, ci prendiamo una piccola pausa, ci tenevo a dirlo perché comunque siamo riusciti a mantenere una pubblicazione più o meno continuativa di due giorni ogni video, anche tre o addirittura anche un video al giorno. Cambio la mano perché mi sta facendo malissimo, mi sistevo in capelli, mi sono appena fatto la doccia e vado a dormire così domani poi partiamo. Arriveranno sicuramente dei Rision Travel molto curati, cercherò di farli venire il meglio possibile per quanto riguarda appunto questa vacanza in Val d'Aosta, vedrete, aspettatevi dei bei video, spero. I Rision Travel per chi non lo sapesse sono quelle specie di video viaggio che faccio quando vi porto con me, delle sottospecie di vlog. Per fortuna questa vacanza coincide più o meno con i primi di agosto, adesso c'è stata una pausa per quanto riguarda il cinema, non è uscito davvero più niente, infatti mi sono dedicato a dei recuperi e adesso proprio quando torno più o meno, riniziano a uscire film interessanti come ad esempio Annabelle 2, poi uscirà Vabbè Dunking, La Torre Nera, Baby Driver, il cinema qua vicino a me fa tante belle anteprime che sicuramente vi porterò, davvero mi è andata anche abbastanza bene con la coincidenza diciamo dei tempi. Quindi io vi ringrazio ancora una volta per il vostro supporto, vi saluto, vi abbraccio, ci vediamo tra dieci giorni circa, fate anche meno, dico dieci giorni per avere più tempo e più spazio di manovra ma sicuramente arriveranno penso dei video prima, godetevi questi giorni, godetevi l'estate e anche se fa un caldo boia, noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!